Dai, bene. Ah, non ti vedo bene, aspetta. Ecco, sei a casa? Beh, sì. Ma dove? Dai tuoi? A casa di Marco. Ah, bene. In Francia o a Milano? No, sono in Francia perché praticamente sono partita, non so se ti ricordi dopo il workshop, due o tre giorni dopo per dare un seminario qua e poi sono rimasta bloccata. Quindi sono dai miei, tipo nella stanza di quando avevo sei anni. No. Con un paio di jeans. Ovvio. No, è un disastro. E quindi sono qua. Ah, sì. Allora, io devo fare una piccola introduzione su chi sei. E come vedi ho già avviato la registrazione, ma soltanto per comodità. Ah, sì, certo. Fai, fai. E vorrei chiederti, siccome io ti vedo un po' illuminata, come se fosse un faro, meglio, meglio, meglio. E siccome non prende benissimo il centro, ti chiedo di stare il più possibile al centro della schermata, perché... Perfetto, molto meglio. Ti ringrazio. Scusami, ho dovuto... Devo sottostare a delle richieste e dire... Non si può restarla da qua. A delle richieste perché ho già fatto un'intervista in cui purtroppo non si vedeva più la faccia, perché lei stava troppo vicina e quindi finiva che poi non si vedeva più. E quindi poi è stato tutto il materiale che non si è più potuto usare. Vabbè, è un peccato. Quindi, insomma, è un peccato che non possiamo usare queste cose. E quindi lei è Chiara Taviani, coreografa e danzatrice e con mare organizza il corso camp di coreografia nel quale insegna un gruppo di una decina di ragazze durante un weekend, cioè un sabato al mese, a danzare. Quindi io stavo pensando che forse con te poteva essere interessante fare una riflessione sulle cose perse. Cioè, tu che cosa hai perso in questi giorni? Cioè le cose che avresti potuto, dovuto fare e invece non hai fatto? Che sono sia a livello lavorativo, ma anche e soprattutto non? È purtroppo tante, perché devo per forza legarla a un fatto lavorativo, perché il mio lavoro, essendo un lavoro artistico, è come la maggior parte magari, però è totalizzante. Cioè, anche se riesco a staccare la testa e a fare tutto quello che fanno tutti, sono comunque sempre a lavorare su progetti e essendo un lavoro anche, come si dice, graduale. Cioè, parti con un progetto piccolo, poi lo sviluppi, ci vogliono anni, per cui la testa è sempre lì. Quindi ho perso tante cose, perché il fatto di non poterle mettere in sala, provarle, vedere da che parte vanno, limita molto la possibilità creativa. Ci stiamo tutti un po' sforzando di rimanere creativi, cercando di usare questo momento anche come spunto, non di parlare di questo, però così vedere dove porta. Però la realtà è che è molto difficile. Quindi sicuramente vediamo cosa succederà e quale sarà il risultato, però le cose perse sono tante. Anche banalmente l'allenamento, cioè banalmente, purtroppo lo strumento è il corpo e è messo a dura prova, molto dura. Cioè, è veramente messo a dura prova, perché poi guarda, ora non so se posso inquadrarti, ma vedi io ho i miei strumenti di yoga lì accanto al letto, per cui praticamente cerco il più possibile, mi sveglio, faccio e tutto, però c'è una risposta fisica diversa che secondo me è dovuta al fatto che non c'è condivisione di queste pratiche. Cioè, un conto è praticare da sola, un conto è praticare per insegnare. Questo cambia molto. Infatti ho capito che ho bisogno di gente. Questo lavoro non si può fare da sola. Ma invece c'è qualcosa che sei contenta, che un po', anche segretamente, magari contenta. Quella cosa lì l'ho scampata. Cioè, dovevo farla perché mi serviva, però un po' sono contenta che non la devo fare. Allora, non posso dirle. No, scherzo, però diciamo che io pattivo ultimamente viaggiare. Mi era venuta anche un po' l'ansia dell'aereo ultimamente, perché negli ultimi anni ho fatto tantissimo Italia, Portogallo, Francia, Inghilterra ogni tanto, però soprattutto tanto Portogallo e non è un viaggio grande, però devo dire che ultimamente questi viaggi non mi facevano stare bene. Quindi fermarmi è una cosa che è molto strana, però da una parte forse un pochino ne avevo bisogno. Quindi i viaggi me li sono scampati. Due o tre erano belli pesanti perché noi eravamo stati selezionati per Aerowaves, quindi purtroppo abbiamo saputo, beh, insomma, lo immaginavamo, però ufficialmente ci hanno detto una settimana fa che saltava. Ci spieghi un secondo che cos'è Aerowaves? Aerowaves è un circuito europeo che praticamente comprende molti operatori d'Europa e molti festival importanti. Cioè, diciamo che ahimè è un po' l'Olimpo della danza in Europa. E io sono tantissimi anni che lo provo e quest'anno, cioè, è proprio felicissima perché siamo entrati, ne selezionano solo 20 spettacoli. Ok. O anche meno, forse, mi ricordo, massimo 20, credo, per cui, insomma, eravamo al settimo cielo. Certo. E ovviamente quando è successo tutto Enrique, che è in Portogallo, era molto positivo, diceva no, ma tu hai questa visione italiana, perché comunque da lui era tragico. invece lui diceva no, vedrai che si fa, si fa, invece io avevo già capito che l'avrebbero annullato. E quindi l'hanno annullato, pare che si sta parlando di rimandarlo a ottobre, fino a ottobre, però tutto in incognita, cioè, e tra l'altro è nato anche un bel dibattito con loro, perché loro hanno proposto di fare il festival online, cosa che la maggior parte degli artisti si stanno un po' rifiutando. Cioè, loro hanno detto, facciamolo ad ottobre, però comunque ad aprile mandiamo i video, però ci stiamo confrontando e non siamo, la maggior parte di noi non sono proprio convinti di questa cosa. Anche se capisco loro, perché sai, c'è un lavoro dietro enorme, se lo fermi è molto rischioso per tutti, però come è rischioso per noi, è rischioso anche per loro. Certo, chiarissimo, chiarissimo. Ma tu che vivi in questa dimensione un po' internazionale, come la percepisci, cioè, sia con, appunto, amici, colleghi che abitano in altre parti del mondo, sia, non lo so, comunque, questa dimensione un po' internazionale del disastro, che non è legata soltanto all'Italia, ma un po' a tutti quanti. All'inizio l'ho patita un po', perché io sono arrivata qua in Francia e in Italia c'erano i primi casi, perché era a fine febbraio e stava andando tutto molto velocemente, poi io arrivavo da Milano, quindi mi hanno messo in quarantena qua. Ho patito molto il fatto che puntavano un po' il dito sugli italiani. Purtroppo lo hanno fatto tantissimo all'inizio, dicendo che era un problema italiano. E io continuavo a dire, soprattutto alla mia famiglia che vive in Francia, non uscite più, perché in Italia i casi sono stati, diciamo, un rebound di tutti quegli eventi, così, quindi gli dicevo state attenti a non fare cene di lavoro, cose del genere, perché se no arrivate allo stesso punto. Quando qua ha iniziato a crescere i numeri e la Francia adesso è sulla linea dell'Italia con 15 giorni di ritardo, allora si sono un po' iniziate a smobilitare le cose e il problema non era più l'italiano, ma come ce la caviamo noi. Qui è stato un po', cioè mi ha fatto capire tante cose sull'uomo, vedere come, cioè prima il problema era l'Italia, adesso salviamoci la pelle noi. Certo. E questo è triste perché, insomma, adesso c'è un po' questo generico, anche quando leggi gli articoli o quando mi confronto con amici, che eppure sono persone super aperte, artisti, così, però c'è sempre questa frase, ah, da noi solo, è brutta da dire, ma da noi solo 900 morti, cos'è successo da voi? Cioè, e tu dici, ma aspetta, cosa stiamo facendo? La gara di cosa? Cioè, è una tragedia per tutti, è una pandemia, vuol dire, cioè mondiale, per cui, quindi è un po', cioè, ho avuto qualche discussione spiacevole. Penso che adesso che sta sprofondando tutto, e quindi i numeri, non si tratta più di vedere chi meno chi più, a questo punto forse ci sarà solidarietà, speriamo. Ci deve essere solidarietà, perché se no, se no è un disastro, cioè, se ognuno sta a vedere il suo, sarà un disastro. Ma io mi auguro che adesso la gente capisca che è una cosa che riguarda tutti. Ma quindi, diciamo, tu cosa ti immagini un po' per il futuro? Cioè, ti immagini che riusciremo davvero ad arrivare a questa solidarietà, oppure al contrario? Io penso sì, perché ha ferito troppi paesi, tutti, quindi secondo me, mentre all'inizio c'era un po' questo istinto di sopravvivenza, di dire, tu, il tuo paese va peggio del mio. Cioè, io, per dirti, sentivo Enrique, in Portogallo la cosa non è ancora partita, comunque ha preso, anche perché loro hanno avuto altre procedure, però ha dei numeri totalmente diversi dall'Italia, e lui mi diceva, eh, ma sai, però l'Italia avete molti turisti, eh, poi c'è questo, questo, e io dicevo, non stai a fare paragoni, cioè, in questo momento devi essere italiano anche tu, perché sei il paese accanto, cioè, o quello poco dopo, cioè, arriverà anche lì purtroppo. Quindi io lo incitavo a non pensare così. e adesso che anche lì sta, la situazione è grave, peraltro purtroppo sono morti anche minorenni, hanno capito che non c'entra il paese, cioè. Quindi no, però penso che, proprio perché anche lui l'ho visto cambiare atteggiamento, secondo me sì, ci sarà solidarietà, perché partiremo tutti dal basso estremo. Cioè, non credo che nessuno partirà da un livello più alto. Ma facendo un volo utopistico sul futuro, cioè sul futuro da qui a due, cinque, dieci anni, pensi che questa cosa ci cambierà in qualche modo oppure no? Secondo me, per forza dovrà, dovrà cambiare qualcosa. È vero che noi possiamo contare sulla nostra responsabilità e sul dire, cioè, questa cosa mi ha fatto capire che devo stare più attenta a un tot di cose nella mia vita. Questo penso che tutti avranno questa riflessione. Ma anche perché fondamentalmente ci sarà la paura da adesso in poi, sempre. E ci vorrà un po' prima che sparisca. Quindi questa paura, secondo me, renderà tutti un po' più responsabili. A livello ecologico, così a livello sociale, anche rendersi conto di chi ha di più di qualcun altro e non volere quello dell'altro, cioè. Ma lasciare che tutti abbiano quello che serve per vivere. Quindi, secondo me, è impossibile che non ci sia un cambiamento. Forse è utopico, perché poi c'è chi dice che invece torneranno a smantellare le polveri sottili come se niente fosse. Io penso che invece non sarà così perché confido che quando hai molta paura poi cambi. Va bene, ti ringrazio. I nostri dieci minuti di intervista sono finiti. Quindi, al resto da registrazione. Grazie. Grazie.